La maggior parte delle persone non ha l'oro sufficiente su Red Dead, non ha abbastanza lingotti d'oro. La soluzione più banale sarebbe quella di, a prendere mano al portafoglio, aprire lo store e cominciare a comprare. Questa è quella più semplice, ma noi non siamo sciopponi, motivo per cui vogliamo sapere come guadagnarci in gioco tutto quello che ci serve. Anche solo 15 lingotti sono veramente tanti, onestamente. Però di seguito una lista di cosa potete fare, di cosa dovete fare se avete intenzione di giocare a Red Dead. Quindi non perdiamo tempo, la prima cosa che vi consiglio sono gli eventi free roam. Riceverete un invito ogni 45 minuti, di media durano 6 minuti ed hanno circa 0.08 lingotti d'oro. Voi mi direte, Reno 0.08 lingotti, a me ne servono 15. Vuol dire che dovrei fare qualcosa come 100, 200 di questi eventi free roam. Non è l'unica cosa che dovete fare, ovviamente. Però vi dà un'idea, 200 eventi free roam per arrivare a 15 gold bars, che sarebbero i lingotti. Quindi ovviamente non sono la soluzione migliore da fare, però se vi capita e non state facendo niente di veramente importante, valutate l'idea di farli, perché durano poco e pagano abbastanza. Un'altra cosa che dovete fare assolutamente sono le mappe del tesoro. Ve ne daranno un po' appena cominciate a giocare e ve ne daranno una ogni 5 ranghi. Se avete appena preso in mano Red Dead Online e rincate abbastanza velocemente, ve ne troverete parecchie. Tendenzialmente pagano di più in dollari piuttosto che in oro, ma ci sono ovviamente delle eccezioni. Un esempio che mi è capitato di fare è prendere 0.73, quindi quasi un intero lingotto d'oro. Sono un po' tediose, ok? Perché bisogna andare in giro, cercare. Non sono però impossibili. Se avete degli amici, meglio, così vi possono aiutare. Per ogni mappa del tesoro, quindi per ogni luogo della mappa del tesoro, ci sono circa 3-4 luoghi disponibili. Il che vuol dire che se andate online a vedere su YouTube, non tutti la trovano nello stesso punto. La zona è la stessa, ma Rockstar ha messo 3-4 punti possibili. Quindi ci sono alcuni online che vi fanno vedere diverse possibilità. Io non è una cosa che non tratterò onestamente, credo, anche perché ho già cominciato il personaggio mesi fa, molte le ho già perse, non avrebbe senso portarvi una cosa incompiuta. Andiamo a una terza opzione che potete fare per i lingotti d'oro, ed è importantissimo, le missioni della storia. Quindi non saltate le missioni della storia, fatele tutte, ok? Che siano a un'ora basso o a un'ora alto. E poi quando arrivate al massimo che avete finito, andate dal tizio che vi cambia l'onore, o cercate di essere persone onorevoli o disonorevoli, e vi si apriranno delle nuove missioni. Quindi continuate, continuate a far missioni. Potete rigiocarle queste missioni onestamente, ma non pagano come la prima volta. Quindi appena entrate, fatele tutte perché paga, paga, paga bene, ok? Quarta soluzione che possiamo fare sono le missioni degli sconosciuti, ok? Non danno moltissimo, però è buono perché ce le caviamo ogni 12-15 minuti. Quindi sono tante, sparse nel mondo, noi continuiamo a farle, continuiamo a guadagnare un po' d'oro. La cosa interessante è che se completiamo, anzi, il punto importante è che dobbiamo completare queste missioni negli ultimi 30 secondi. Se la completiamo prima, non riceveremo oro, solo dollari ed esperienza. Se la completiamo dai 30 secondi in giù, dalla fine, guadagneremo dell'oro, ok? Questa cosa tenetela ben a mente, altrimenti le missioni degli sconosciuti diventano totalmente inutili, ok? Un'altra cosa importante, soprattutto durante i periodi di bonus, ok? Quindi state attenti anche ai vari bonus settimanali, sono le attività PvP, serie dei conti, serie letale, gare. Le migliori sono serie dei conti e serie letale, ok? Pagano bene e pagano meglio se arrivate in buone posizioni, ovviamente. Buone, come dicevo in altri video, comunque per imparare a fare PvP, per imparare a combattere, a sparare, magari non vi posso, magari alcune modalità non vi piacciono neanche a me, però diciamolo in modo abbastanza gentile. Se siete con le pezze al culo, dovete fare qualsiasi cosa pur di portarvi a casa dei lingotti. L'ultima cosa che vi consiglierei, che è la cosa più profittevole in assoluto, sono le sfide giornaliere. Se voi premete sul vostro joystick, tasto sinistro, scendete, 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 sfide giornaliere, vi darà tre possibili tab. La prima sono le sfide giornaliere, quelle normali, ok? La seconda sono quelle dei ruoli, quindi sono legate a sfide che fate dei ruoli. La prima invece è tipo vai a Tumbleweed ed entra in un negozio, oppure ammazza un cervo, oppure pulisci tre armi, delle cose del genere. La seconda sono per i ruoli, ad esempio porta tre taglie, guadagna 50 dollari in taglie, vendi un cargo di merce con il commerciante, trova cinque tarocchi del collezionista, cose del genere. Mentre invece la terza tab sono le serie di sfide giornaliere. Il che vuol dire che se per esempio c'è un bonus, se ogni giorno riuscite a fare almeno una sfida, vi darà lingotti per tipo 0.5, che vuol dire che se guadagnate banalmente un lingotto, prendete un lingotto e mezzo. Se voi continuate a fare queste sfide, anche queste sfide in serie, arriverete ad avere dei moltiplicatori per 2.5 e anche 3, no, 2.5 e 2.5 più una mappa del tesoro, ma tipo se fate un mese di sfide giornaliere. Quindi, sempre occhio a queste sfide giornaliere sono veramente, veramente importanti, sono la cosa che danno più lingotti in assoluto, pagano 0.2, quindi, sì, 0.2 o 0.4, tendenzialmente alcune anche 0.6. Se fate tutte le sfide giornaliere in un giorno, voi capite che vi portate a casa 4 lingotti. Se arrivate a fare un mese intero di sfide giornaliere, quindi moltiplicatore per 2.5, e finite tutte le sfide giornaliere, non vi fate 4 lingotti, ve lo fate per 2.5, ok? Quindi dovrebbe essere per 2.5, diventa 4 per 2, 8, quindi 4 più 8, 12, più 0.5, la metà è 2, quindi dobbiamo fare 14 lingotti, signori. Vuol dire che voi, se fate un mese intero di sfide, ok? Il giorno dopo, di base, vi fate 14 lingotti, più tutti i lingotti che vi siete fatti in un mese. quindi le sfide giornaliere sono il modo migliore in assoluto, ok? Se avete carenza, io le faccio, ma le ho sempre, guardate con occhio, con occhio un po', un po' cattivo, diciamo, ma le sfide giornaliere non mi piace, poi effettivamente mi sono messo lì a guardare e sono, molte sono semplici, magari non le fate tutte, dipende da quanto, da cosa volete far voi, però qualcuna fatela perché paga. Se ogni giorno vi portate a casa anche solo un lingotto di sfide giornaliere, voi potete capire che in due settimane vi siete fatti 15 lingotti, più tutto il resto che farete, ok? Quindi, questi sono i 6 metodi migliori per fare, per fare oro, non ce n'è un altro, sì, ce n'è un altro che andarvele a comprare, avete, tra virgolette, un bonus speciale, tipo dovrebbe essere 5 euro, vi danno 15 lingotti, io non l'ho nemmeno, non l'ho mai riscattata, sta cosa, magari un giorno lo, lo farò, ma non lo so, io direi che D'Areno per questo video è veramente tutto, noi ci vediamo ai prossimi video su Red Dead, vorrei cominciare la mia serie Vita da Reno nel West, continueranno i miei video di GTA, qualcuno di voi magari potrà pensare, eh Reno, non stai portando più GTA, è vero, sto cercando, cioè, non è che lo sto più portando, non lo sto più portando con la solita frequenza, sto cercando di alternarmi e di riuscire a far tutto avendo tanti contenuti da portare, voglio aiutare tanto le persone che stanno cominciando su Red Dead adesso e il modo migliore per farlo è pubblicare tanto all'inizio di questo nuovo aggiornamento. Signori, io vi ricordo che potete trovarmi sotto in descrizione ci sono tutti i gruppi Telegram, il mio gruppo di Red Dead, il gruppo di Red Dead con cui collaboro, il mio gruppo di Telegram del canale, tutti i miei riferimenti per quanto riguarda il mio Telegram personale, Instagram, eccetera, eccetera, eccetera. Noi ci vediamo in live o a un prossimo video, statemi bene e alla prossima, 3, 2, 1, Aloha!